La programmazione settimanale del servizio di emodinamica al Santimoteo di Termoli continua a far discutere. L'emergenza sarebbe dovuta principalmente alla carenza di medici e infermieri specializzati, mancanza che non permetterebbe di coprire i turni H24. Da qui una serie di proposte, tra cui quella del Comitato Santimoteo, che si rivolge ancora una volta al DG Asrem florenzano per chiedere immediate azioni per arginare il problema. Siamo sconcertati, spiega il presidente Nicola Felice, nel non aver avuto a tutt'oggi alcun riscontro da parte del direttore generale alla proposta più volte espressa di trasferimento momentaneo di medici emodinamisti dal Cardarelli di Campobasso al Santimoteo di Termoli, disposizione che verrebbe a cessare quando saranno assunti con concorso a tempo indeterminato i nuovi medici emodinamisti. Il Comitato, inoltre, mostra anche poca fiducia nel post 2022-2024, che secondo i rappresentanti civici sarà una sorta di copia e incolla di quello precedente. Questo Comitato, conclude Felice, ritiene ciò molto rischioso e inaccettabile. L'attenzione allora è rivolta al Consiglio di Stato, con la speranza che accolga la richiesta di appello della mancata sospensiva da parte del Tar e l'annullamento del decreto di approvazione.